Quanto prende di pensione lei al mese? 1.800 euro. Io prendo 1.200 euro. Pensionati della marca in piazza dei signori per l'assemblea pubblica contro il decreto pensioni per contestare le previste fasce di rimborsi e conseguenti rivalutazioni al grido di... Al lavoro e alla lotta. Per capire la questione sarà bene munirsi di blocnotes e calcolatrice. 250.000 pensionati della marca. Con il blocco pensioni il governo ad oggi ha risparmiato su Treviso 106 milioni di euro. Soldi che ora aspetterebbero di diritto agli 88.000 pensionati trevigiani che nel calcolo della rivalutazione dei contributi sono stati divisi in due dal blocco Monti e Renzi. Rispettivamente 73.000 che con un reddito al di sopra dei 1.700 euro nel risarcimento prenderanno solo poche briciole, mentre i restanti 15.000 non percepiranno nulla perché con un reddito superiore ai 2.900 euro. Noi ci auguriamo che oggi i nostri esecutivi che sono riuniti a Roma andiano veramente linee precise per come rispondere entro il mese, entro il 20 di luglio, data ultima per la conversione in legge del decreto, al fine di poterlo cambiare. Tutto ciò che è stato risparmiato si è messo a disposizione per riorganizzare il sistema previdenziale per quelli che oggi purtroppo devono andare in pensione o a 67 anni o a 43. Pensiamo debbano andare prima, specialmente nella situazione di crisi. Noi ritorneremo a protestare ma soprattutto a manifestare non solo con i pensionati ma anche con quelli che sono tutti interessati nel mondo dei pensioni. Meno soldi a questi signori del governo, ai deputati, ai senatori. Discorso a parte invece per i restanti 162.000 pensionati trevigiani che in base alla legge hanno potuto ottenere la rivalutazione perché sotto la soglia dei 1.500 euro. Grazie a tutti.